E' ricco? No? E' buono della finanza dell'Equitalia E' chi non ce l'ha? 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 Prego, aspetta, l'ultimo tentazione, insomma, come? Ce la puoi fare? Stupiscici adesso, va! E anche quelli di amici che non esistono Sì, veramente Ah, è scelta L'ultimo, io la vi dò attenzione Un attimo Dopo il nuovo, cosa devo fare? La palla Un attimo, perché vedo che la maestro che gli sta scaldando gli arti inferiori No! Quello non è stato però la maestro E' avanti c'è l'altro Attenzione signori, perché solo nell'ottore di 105 ci sono passi che...